E vedete così che sono entrato nel mondo del cinema dei lungometaggi, come ci sono entrato? Ci sono entrato dopo tutto questo impegno, questa grande fatica ed è stato un sogno che si è realizzato ma di cui non avevo mai, non ho mai parlato, perché quando mi chiedevano cosa mi piacerebbe fare mi piacerebbe fare quello che sto facendo, musica, scrivere canzoni, ma in realtà dentro, nel profondo, dentro di me avevo questo desiderio di fare il cinema, ma ho lasciato che il cinema bruciasse, bruciasse e quando la gente, la battuta che faccio sempre, quando la gente mi dice ah tu sei un attore, un bambino prodigio, io rispondevo no, io ero un bambino con casa grazie grazie